Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot! Ben ritrovati! Eccoci pronti per un'altra estrazione in compagnia di Eurojackpot. Lo sapete che in Lettonia si registra un alto numero di inventori donna. Per la precisione il 30% delle invenzioni si attribuisce al genere femminile. Numeri altissimi rispetto all'Italia, che si ferma al 14,3% nel periodo 2010-2019. L'Europa, tuttavia, è comunque al di sotto della media mondiale, soprattutto rispetto a Stati Uniti, Cina e Corea del Sud, secondo l'ufficio Brevetti. Passiamo ora a numeri decisamente più incoraggianti. Il nostro jackpot questa sera ha un valore di 13 milioni di euro. Siete pronti a scoprire la combinazione vincente? Diamo il via all'estrazione direttamente dalla sala delle urne. Nella prima urna elettronica vediamo già le sfere in movimento. A breve scopriremo il primo numero estratto della nuova combinazione vincente. Pronti per il primo numero? Che l'estrazione abbia inizio! Il primo numero è... 23 Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo estratto è il numero 38. 38 Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 24 Quarto numero di questa estrazione. La quinta sfera estratta potrà regalare vincite milionarie se associata ai due euronumeri, che arriveranno a brevissimo. Il quinto numero estratto è... 42 Mancano solo i due euronumeri e potrebbero assegnare il jackpot milionario in paglio oggi. Abbiamo il primo euronumero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. È il numero... 10 Manca una sola sfera per completare la combinazione vincente di questa sera. Il secondo euronumero estratto è il numero... 1 Controlliamo ora la combinazione vincente. 23 24 38 42 44 I due euronumeri sono... 1 e 10 Controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato centrato il 5 più 2, ma moltissimi giocatori hanno comunque realizzato ricche vincite, sia in Europa che in Italia. Seguiteci sul sito web eurojackpot.it per scoprire dove sono state realizzate le vincite. Non perdetevi l'appuntamento con l'altra grande estrazione del martedì. Oltre a Eurojackpot, vi ricordo che oggi un jackpot milionario può essere assegnato anche con l'estrazione di Super Enalotto. La caccia al jackpot milionario prosegue venerdì prossimo. Il jackpot in paglio sarà pari a... 22 milioni di euro. Il valore del jackpot continua a salire. Siete pronti a giocare la vostra combinazione con soli 2 euro? Venerdì prossimo scopriremo i nuovi numeri vincenti. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!